Sì 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 Ultimo pacchetto con la gioia e la vita nel cuore e ci salutiamo con... Oddio! 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 Oddio non ci credo! Oddio non ci credo! Oddio non ci credo! Oddio non ci credo! Isco e Robin! Isco e Robin! Isco e Robin! Oddio non ci credo! Oddio non ci credo! Oddio non ci credo! Oddio non ci credo ragazzi! Isco e Robin! Isco e Robin Toti! Oddio! Qui ci sta... ci sta bene! Ci sta bene! Pioggia di caramelle! I mortacci tu! I mortacci tu! Nooo! Ho 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 ho! Ahahahahahahahha! Ahahahahahahahahahaha! Corliuca 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 Io me ne vado, basta, io me ne vado Ho cambiato account, sono tornato con il mio Rosario FC Perché l'altro, ragazzi, si trovava una ceppa Oddio Cristiano Ronaldo Oddio Cristiano Ronaldo È il primo pacchetto, porca troia Porca troia, porca troia No Dexter, no lo devo dire a Dexter Lo devo dire a Dexter Lo devo dire a Dexter Dexter, Dexter Ho trovato Cristiano Ronaldo Toz Ho trovato Cristiano Ronaldo Toz Oddio ragazzi, questi Oddio, non ci posso credere Non ci posso credere Sto a tremare, sta a tremare Mamma mia Mamma mia, ragazzi Mamma mia, no No, niente, è ancora lo stesso problema Però io ho cliccato, quindi dovrebbe farmela aprire Vediamo qua Ok, me l'ha fatto aprire Dai, dai dai dai, aspetta Andiamo piano Andiamo piano Abbiamo Tiago Silva Tiago Silva Tiago Silva E' un team Timo Bayer Gozze pure L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Ho girato a mezzanotte e basta Però ne basta Ne è valsa La pena Timo Bayer Ve l'avevo promesso Ve l'avevo promesso Oh, oh, sto andando in pala Sto Ho girato fritto